un uomo di 88 anni di termoli è venuto a mancare a causa del covid nel reparto anziano fragile del cardarelli e la vittima numero 524 boom di ricoveri malattie infettive altri 6 mentre i nuovi casi sono 506 gli attualmente positivi più di 9200 sgominata la baby gang di campo basso 11 giovanissimi denunciati per associazione delinquere finalizzata a commettere atti delittuosi nei confronti di coetanei e adulti ma anche furti minacce risse bullismo incidente in una fabbrica chimica di termoli operaio riporta una grave ferita al braccio l'uomo è ricoverato al santimoteo e la data occhio nero chiede più sicurezza e chiarezza sulle indagini levata di scudi dei tabaccai molisani contro l'obbligo del green pass per la clientela la regola dicono è iniqua e inapplicabile intanto le regioni chiedono l'aggiornamento delle norme il superamento dei colori e la sorveglianza ai soli sintomatici il cnr potrebbe approdare molise a montacuila il progetto sull'analisi dei rischi legata a frane alluvioni e terremoti il comune e l'istituto nazionale hanno superato la prima fase per realizzare un centro in località scafa che coniuga scienza e sociale infine lo sport lutto in casa del calciatore campo bassano ex milan ora nelle file dell'empoli patrick cutrone è venuto a mancare all'età di 58 anni il papà pasquale campo basso calcio concentrato sulla sfida di domenica ad andria mercai suona la carica in puglia per vincere basket rinviato il recupero tra empoli e magnolia una sera ben trovati nuova edizione del tg di tele regione parleremo tra pochissimo dell'emergenza coronavirus ma una piccola un piccolo accenno all'elezione del capo dello stato fumata nera anche nella terza chiama che c'è stata in mattinata lo spoglio è terminato nel primo pomeriggio 125 voti per sergio mattarella di fatto non c'è ancora un nome che metta d'accordo gli schieramenti proprio in questi ultimi minuti si fa avanti si fa strada l'ipotesi del costituzionalista sabino cassese ma sono solo indiscrezioni indiscrezioni scusate quindi dovremo ancora aspettare e quindi concentriamoci sull'emergenza coronavirus purtroppo c'è una vittima si tratta di un uomo di 88 anni che era ricoverato al cardarelli e sono altre sei le persone portate in queste ore all'ospedale di campo basso 507 i nuovi casi sentiamo peggiore il trend della pandemia in molise purtroppo si conta una nuova vittima complessivamente adesso sono 524 dall'inizio dell'emergenza coronavirus non ce l'ha fatta un 88enne di termoli che stava lottando nel reparto anziano fragile del cardarelli e proprio nell'ospedale campo bassano sono state ricoverate altre sei persone rispettivamente di isernia termoli trevento boiano monte nero valcocchiara e san marco dei cavoti nessun dimesso quindi la situazione attuale di 42 degenti covid 25 sono in malattie infettive 14 nel reparto anziano fragile 3 in terapia intensiva dei 42 ricoverati 13 non sono vaccinati i nuovi casi 507 105 le persone positive rispetto ai 1595 tamponi molecolari processati dall'asrem 402 i contagi relativi ai 1601 test antigenici refertati da farmacie e lavoratori i guariti 444 in queste ore quindi gli attualmente positivi salgono a 9292 in isolamento ci sono 4679 cittadini la cronaca adesso è stata sgominata la baby gang di campo basso che negli ultimi mesi aveva seminato il panico in città 11 ragazzi sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata a commettere atti delittuosi nei confronti di coetanei ma anche di adulti su questi ragazzi prendono anche le accuse di minacce furti risse e bullismo sentiamo tutto da per luigi voragine baby gang a campo basso la squadra mobile ha denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni 11 giovanissimi del capoluogo e zone limitrofe 4 degli 11 denunciati indicati come i capi della banda sono accusati di associazione a delinquere diretta a commettere più reati intimidatori nei confronti di minori adulti ma anche dei reati di furto con violenza minacce rissa atti persecutori percosse lesioni personali gli altri sette indagati invece pur facendo parte della gang e autori di gravi condotte a carico delle vittime hanno avuto un ruolo più marginale nelle vicende analizzate fatti delittuosi che hanno avuto inizio a febbraio e sono proseguiti sino a dicembre divenuti di dominio pubblico dopo la pubblicazione sulla rete di alcuni video che ritraevano la banda in azione con i più spavaldi che si esibivano in atteggiamenti da boss ha fatto il giro del web l'aggressione ad un uomo senza fissa dimora in via cavour i ragazzi all'epoca dei fatti minorenni di età compresa tra i 13 e 17 anni colpivano a scuola e in strada scagliandosi contro altri studenti genitori di coetani persone indifese anche scelte casualmente mentre camminavano per la città ed è proprio dall'azione collettiva del branco sottolinea la polizia di campo basso che l'attività traeva la sua forza l'attività investigativa della squadra mobile è partita dopo la denuncia di una giovane vittima provocata e colpita con una testata mentre passeggiava in pieno centro e ancora atti di bullismo nei confronti di un compagno di classe bersaglio di scherno e sberleffi coetaneo picchiato all'uscita della scuola anche davanti al padre che la aspettava in macchina con lo stesso genitore oggetto di calci e pugni nel mirino della banda anche ragazze che si rifiutavano di cedere la merenda o piccole somme di denaro e per finire risse sui gradoni dell'ex stadio romagnoli aggressioni all'altezza del centro commerciale il centro del molise ai danni di un altro minore che ha riportato 30 giorni di prognosi dunque uno spaccato preoccupante del disagio che interessa tanti giovani con la riproduzione riferiscono dalla questura del capologo di dinamiche tipiche della micro criminalità organizzata e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto oggi nell'industria chimica fis termoli un operaio di 55 anni è rimasto ferito ha riportato una grave frattura a un braccio mentre stava lavorando sul posto sono intervenuti il 118 con i volontari della misericordia che hanno trasportato il lavoratore al punto soccorso dell'ospedale santimoteo per gli accertamenti del caso e intervenute anche appunto le forze dell'ordine e su questo caso si è espressa in queste ore la parlamentare molisana d'italia viva giuseppina occhio nero l'incidente avvenuto alla festi termoli è l'ennesimo capitolo di uno stilicidio di infortuni sul lavoro che diventa di giorno in giorno sempre più inaccettabile le parole della parlamentare è urgente intervenire per affrontare quello che quella che rappresenta ormai è un'emergenza nazionale le condizioni dell'operaio sono gravi gli facciamo i nostri più sentiti auguri allo stesso tempo spieghiamo che le autorità inquirenti facciano chiarezza sulla dinamica e più in generale è evidente che non si può restare con le mani in mano e limitarsi ad aggiornare il bollettino nero e i morti ogni giorno bisogna intervenire subito per garantire più sicurezza sul lavoro nel pomeriggio di oggi c'è stato un incidente stradale alle porte di Campobasso precisamente all'incrocio tra via Facchinetti e Contradamacchie due le auto coinvolte tra cui una volante della polizia feriti lievemente i due agenti i due poliziotti che sono stati trasportati in pronto soccorso al Cardarelli dal 118 in via precauzionale sul posto i vigili del fuoco i carabinieri e anche la polizia Levata di scudi da parte dei tabaccai molisani contro l'obbligo del green pass per la loro clientela la norma introdotta dall'ultimo decreto del governo viene giudicata iniqua e inapplicabile Sentiamo Nicola De Santis Anche i tabaccai molisani sono pronti allo sciopero se non dovessero esserci novità nelle prossime ore L'obbligo di controllare il green pass dal primo febbraio è una richiesta da parte del governo giudicata irricevibile I gestori di tabacchi ritengono di offrire servizi essenziali Inoltre sarebbe impossibile controllare il green pass di tutti i clienti proprio per la velocità con cui l'utenza frequenta questo tipo di esercizio Per i tabacchi che fanno anche bar si creerebbe peraltro un paradosso Il cliente che vuole il caffè da asporto può entrare senza green pass mentre non può acquistare sigarette se non al distributore automatico Peraltro il rischio di creare assembramenti tra la clientela in attesa è maggiore di un veloce passaggio in cassa di 15-20 secondi tempo medio calcolato sulla clientela tipo di un tabacchi Insomma la norma per molti esercenti è iniqua e per questo minacciano la serrata Il tabaccaio allora voglio ricordare che è stato aperto in pieno lockdown allo Stato italiano è servito a dare servizi perché noi siamo molti servizi sia in bollettini, ricariche e quant'altro in mascherine ed oggi pare che debba essere considerato diverso dalle altre attività dove dobbiamo dire questo che in una tabaccheria il cliente entra ed esce, prende le sigarette ed esce Io lascio immaginare, vi faccio soltanto pensare che il tabaccaio che sta da solo che cosa dovrebbe fare? Uscire dal bancone, quindi andare già uscendo dal bancone già lei è della sua sicurezza deve uscire dal bancone e chiedere al Green Pass, ritornare dal bancone e dare le sigarette riuscire dal bancone se non è morto di covid morirà di grepa cuore, sicuro io personalmente da semplice tabaccaio mi auguro che questo decreto venga fin quando sarà non so, pare che sia dal primo febbraio mi auguro di cuore che venga rivisto perché non è tanto normale, non è tanto logico Allora creerà molti problemi in quanto già abbiamo cognizione del fatto che alcuni clienti non si sono vaccinate e quindi saranno dei grandi problemi per noi perché il profitto calerà ancora quindi nonostante già le difficoltà economiche che noi tabaccherie dobbiamo affrontare giornalmente ci sarà questo aggravio proprio per la richiesta dei Green Pass perché perderemo alcuni clienti che non sono vaccinati Secondo me è una grossa cappellata perché nel primo periodo del covid le tabaccherie furono escluse proprio perché furono ritenute forniture di servizi essenziali e fu un ruolo riconosciuto unanimamente dalla nazione intera se noi calcoliamo poi che in tabaccherie transitano circa 13 milioni di persone al giorno diventa complicato anche per noi, lei comprende, di fare questi controlli se aggiungiamo che per motivi di sicurezza le tabaccherie non possono uscire dalla loro postazione di lavoro proprio perché hanno delle chiusure blindate, diciamo, qualche cosa del genere quindi sì, veramente è incomprensibile il controllo che noi dovremmo effettuare dicono a campione, ma che significa a campione? Io sono a favore di tutti i controlli, di tutto quello che è per uscire fuori da questa situazione l'unica cosa che giustamente credo sia un problema, soprattutto per i miei colleghi che si trovano ad operare da solo in tabaccheria il controllo di ogni avventore insomma comincia a diventare un po' complicato secondo me, visto che noi siamo stati in una categoria che durante il lockdown è stata aperta una delle poche categorie è stata aperta insomma adesso ristringere le maglie in questa maniera mi sembra un poco assurdo tutto qui, non che non sia d'accordo al controllo, a tutto quello che ci può stare per prevenire, per uscire fuori da questa situazione ma ristringere le maglie così insomma comincia a diventare pesante Emergenza Covid, ancora le regioni hanno chiesto l'aggiornamento delle norme nello specifico il superamento dei colori e la sorveglianza solo per i soggetti sintomatici inoltre il governatore della regione Toma ha limitato l'ordinanza della macellazione dei suini al 31 gennaio quindi scadrà tra qualche giorno sentiamo ancora Boragine Picco raggiunto inizia la discesa ma intanto lo stato di emergenza scade il 31 marzo e nonostante la pandemia sia in fase di ripiegamento la burocrazia ed i protocolli da seguire sono sempre complessi e tortuosi servirebbe semplificare e normalizzare è quello che chiedono con un documento unitario i governatori al governo basta con le fasce a colori i malati per altre patologie contagiati tra i ricoveri covid e asintomatici sottoposti a sorveglianza sanitaria gli studenti vaccinati in dad la posizione unanime delle regioni messa nero su bianco in un documento da sottoporre all'attenzione del governo premier e ministri sono alle prese con le elezioni del capo dello stato ma c'è la volontà politica di rivedere le misure restrittive mercoledì 2 febbraio ci sarà un confronto in sede stato regioni il presidente della conferenza delle regioni massimiliano fedriga d'intesa con il governatore del molise donato toma e con gli altri colleghi presidenti ha dichiarato l'obiettivo guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata ed il rilancio del nostro paese due in particolare i punti sottolineati superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all'esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai soggetti sintomatici il tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva che era stata presentata dall'amministrazione comunale di isernia contro la realizzazione dell'otto zero cioè la strada che dovrebbe collegare il bivio di pesche a quello di miranda quindi praticamente il primo tratto della isernia castel di sangro il sindaco piero castrataro dopo la sua elezione annunciò la contrarietà alla realizzazione di quest'opera decidendo quindi di impugnare la proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sull'infrastruttura ebbene questa mattina è giunta la sentenza del tar che sostanzialmente dà torto alla giunta castrataro rappresentata dall'avvocato pino ruta il quale ha già annunciato peraltro che ricorrerà al consiglio di stato per far valere le ragioni dei propri assistiti cioè il sindaco e la giunta staremo a vedere il CNR potrebbe approdare in Molise a Montaquila per la precisione perché c'è un progetto che vede unite le forze proprio del comune di Montaquila e del centro di ricerca l'idea è quella di istituire un centro che studierà i rischi legati alle frane alle alluvioni ai terremoti e noi ne abbiamo parlato proprio con gli ideatori del progetto. Ricerca e riqualificazione sono i punti essenziali del progetto presentato dal CNR in particolare dal gruppo IRPI che si occupa della protezione idrogeologica e dal comune di Montaquila. L'ente di ricerca e l'amministrazione guidata dal sindaco Marciano Ricci hanno avanzato la loro candidatura relativamente a uno specifico bando dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'idea è quella di realizzare nella zona della Scafa un vero e proprio presidio scientifico di ricerca sui rischi legati a frane alluvioni e terremoti che quindi sviluppi delle strategie per gestire le emergenze. Il primo step è stato compiuto il progetto ha avuto l'ok per ciò che concerne la mission e ora è in corsa per superare la seconda fase dopodiché via ai sopralluoghi di un soddisfatto primo cittadino Ricci e dei rappresentanti del CNR tra cui il responsabile è scientifico del progetto denominato Scenario, l'ingegnere Luca Brocca e la ricercatrice Evelina Volpe. Questo laboratorio l'abbiamo scelto appunto, questo laboratorio che avrà un nome che si chiama Scenario sarà un laboratorio per la sicurezza e la resilienza del territorio e il laboratorio è finalizzato a mettere in atto strategie utili per aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio in particolare nei confronti degli eventi estremi che sono piene alluvioni, frani e anche terremoti. Per quale motivo abbiamo scelto il comune di Montaquila? Il comune di Montaquila è in realtà un po' tutta la regione del Molise, è affetta dal rischio idrogeologico e anche dal rischio del terremoto e quindi la regione del Molise è sicuramente un'area affetta da questi rischi che necessitano di essere studiati. Ma le ragioni per la scelta della regione Molise ce ne sono almeno altre due, la prima principalmente perché attualmente non esistono sedi CNR nella regione Molise, mentre le sedi CNR sono più o meno distribuite in tutto il territorio nazionale e la seconda è quella di fornire alla regione Molise una struttura, un laboratorio, quello che è stato chiamato un ecosistema dell'innovazione, c'è un posto, un laboratorio dove si potranno formare non soltanto le persone provenienti dall'esterno ma anche i giovani della regione e quindi evitare appunto lo spopolamento di quest'area. Quindi la scelta è stata strategica per una molteplicità di ragioni. Ed effettivamente Montaquila è un luogo baricentrico rispetto a tutta la regione Molise che soffre purtroppo dei rischi connessi alle frane, a questi fenomeni naturali. Dottoressa Volpe le chiede nello specifico quali attività verranno svolte a Montaquila. Allora come ha detto l'ingegnere Brocca sicuramente verranno svolte delle attività di ricerca su temi come le frane, le alluvioni e i terremoti. Oltre a queste attività di ricerca quello che ci si auspica è la creazione di appunto un ecosistema che garantisca un lavoro sinergico tra gli approcci che vengono sviluppati dal mondo scientifico, quindi le metodologie e le aziende che operano nel settore ma anche gli enti locali. Cioè quello che ci si augura è che la gestione del rischio non sia più una gestione che viene effettuata in condizioni di emergenza ma che viene pianificata evitando quindi spesso uno spreco di risorse. Il progetto vede la presenza anche di altri autorevoli partner come l'Università e Campus, l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, l'European House Ambrosetti S.P.A., l'area interna Mainarde e porterebbe in Molise una struttura di prestigio come quella del CNR. Domani ricorre la giornata della memoria, il 27 gennaio del 45, le troppe sovietiche liberarono i prigionieri dal campo di sterminio di Auschwitz e quindi il mondo conubbie, lo sterminio degli ebrei e di altre cosiddette minoranze all'epoca. L'apertura dei cancelli di Auschwitz, le parole del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e la pubblicizzazione al mondo di ciò che accadeva in quel campo mise l'uomo del XX secolo di fronte all'estrema crudeltà di cui è capace quando imbocca la strada dell'odio nei confronti dei propri simili. Non che nel passato fatti orrendi come quelli operati ai danni del popolo ebraico, dei portatori di handicap o di altre razze ritenute inferiori non si fossero concretizzati ma forse mai era accaduto che si costruisse un sistema di leggi frutto di un contesto culturale e filosofico di stampo razziale totalitario. Micone poi sprona tutti alla memoria esattamente come ha fatto Primo Levi riprendendo proprio le parole di Primo Levi l'importanza del non dimenticare che orrori simili non accadano più. La pandemia ha influito negativamente anche sulle donazioni di sangue a Macchia Godena è arrivata l'auto emoteca dell'Avis, tante persone hanno risposto, ci sono state anche delle prime donazioni. Vediamo. La pandemia ha influito negativamente anche sulle donazioni del sangue, ragion per cui l'Avis ha deciso di scendere in piazza per raggiungere i donatori in maniera capillare. Il tour nelle scorse ore ha raggiunto Macchia Godena dove da anni operativa una sezione particolarmente dinamica. I nostri soci rispondono sempre bene alle chiamate di emergenza sangue, questa è l'ennesima raccolta associativa che facciamo in piazza, questa volta abbiamo dovuto in base alle nuove direttive nazionali per la sicurezza dei donatori e del personale sanitario abbiamo dovuto dividere i luoghi del triage da quelli della donazione vera e propria in modo da far stare sulla emoteca meno persone possibili contemporaneamente. Abbiamo sollecitato i donatori non vaccinati a fare il tampone per essere sicuri, anche se non è obbligatorio e niente, abbiamo tanti giovani che si sono avvicinati all'Avis. La dottoressa Mirella Perluzzo ha spiegato come è cambiata la donazione in relazione alla pandemia, anche se in regione grazie alla generosità dei molisani non c'è mai stata una reale emergenza. Allora, in quest'ultimo periodo della pandemia sono un po' diminuite, infatti c'era un po' necessità di sangue e abbiamo ripreso con le donazioni nei vari paesi, però non abbiamo mai sofferto, non siamo mai andati in sofferenza per il sangue, un pochino di meno, ma adesso ci riprendiamo con la speranza che la pandemia ci lasci spazio. Ma in questo momento carenza non c'è, perché ripeto, abbiamo ripreso con le donazioni, alcuni donatori stanno andando presso i centri trasfusionali, noi in giro per il Molise, però è chiaro che ci stanno diverse persone, molti che hanno paura per via del Covid, altrimenti la donazione in Molise è ben sentita e l'Avis ha sedi in tutto il Molise, per cui voglio dire l'associazione è molto seguita e molto fidelizzata, praticamente sono tanti i donatori Avis e rispondono sempre quando li chiamiamo. Il sindaco di Macchiagodena ha espresso la propria soddisfazione per un'iniziativa che fa bene due volte, al destinatario della sacca di sangue e dal cuore del donatore che sente di essere utile al prossimo. Nel nostro territorio abbiamo la fortuna di avere la sezione Avis, che è una delle più attive della regione, che periodicamente si mette a disposizione per garantire quello che è un servizio fondamentale, quello della donazione del sangue. I donatori di Macchiagodena al nostro microfono spiegano come si sono avvicinati al mondo della donazione e cosa provano nel donare il sangue. È uno spirito che mi è venuto dal 1975, sto donando sangue per far bene alla gente, è una cosa bella, fisicamente vai meglio, si rinnovano delle cellule e tutto qua. Allora io ho iniziato nel lontano 84 a donare, avevamo un parente che aveva la leucemia e aveva bisogno di sangue e quindi ho iniziato lì e poi sono andata avanti perché visto che serve è una cosa molto utile insomma. Diamo ai giovani, se potete donate, che donate la vita, questo è il messaggio che do. Celebrata oggi la memoria di San Timoteo, Don Benito Giorgetta a Termoli ha lanciato il suo messaggio, ci aiuti a onorare Dio nella nostra vita, sentiamolo. Le reliquie di San Timoteo sono custodite nella cattedrale di Termoli dal 1239. Il corpo di Timoteo venne ritrovato durante dei lavori di restauro nel 1945 in un loculo coperto da una lapide in marmo che riportava questa iscrizione latina nel nome di Cristo Amen nell'anno del Signore 1239. Qui riposa il corpo del Beato Timoteo, discepolo del Beato Apostolo, nascosto dal venerabile l'evescovo Stefano insieme con il capitolo di Termoli. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Timoteo insieme con Tito, alto discepolo molto caro a Paolo. Oggi è la memoria di San Timoteo e Termoli può definirsi città timoteana proprio perché ha ricevuto dalla storia un particolare dono, quello di conservare le reliquie di San Timoteo. Difatti mi trovo proprio accanto alla reliquia del capo di San Timoteo affidato a questa comunità parrocchiale dal nostro vescovo dal 2015 fino ad oggi. La città di Termoli può definirsi città timoteana proprio perché l'11 maggio del 1945 casualmente facendo dei lavori di ristrutturazione della cattedrale della città è stata scoperta un loculo contenendo una cassetta linea. Dal 1239 il vescovo di allora Stefano aveva occultato queste ossa umane per preservarle da ogni forma di profanazione, cose che accadevano comunemente in quel periodo. E lo fa nel giorno in cui l'udienza generale di Papa Francesco sarà dedicata alla pace e in modo particolare all'Ucraina. L'intercessione di San Timoteo conceda a noi, alle nostre famiglie, di poter onorare con gioia la nostra fede. Non basta essere cristiani credenti, dobbiamo cercare di essere cristiani credibili perché credere è facile, è l'assenso della mente e dello stile anche della vita a quella che è l'esistenza di Dio, ma credibili lo si fa attraverso i gesti, le scelte della vita di ogni giorno. Ecco, San Timoteo preghi per noi, ci accompagni, ci custodisca e soprattutto ci doni di poter onorare Dio nella nostra vita perché onorando Dio onoreremo noi stessi i nostri fratelli e chi ama il fratello, come dice San Giovanni, ama anche Dio. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo di giovedì 27 gennaio, giornata tutto sommato discreta con momenti soleggiati alternati a locali annuvolamenti. Temperature in aumento, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare da mosso a poco mosso. Eccole le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 1, massima 12 gradi. Isernia 0,12, Termuri 3,13, Venafro 3,14. Qualche istante di pausa, non andate via, tra poco lo sport. Ecco, ci siamo di nuovo insieme, apriamo questa pagina con un lutto in casa di Patrick Cutrone che coinvolge anche gli sportivi molisani perché l'ex attaccante del Milan, ora dell'Empoli, è originario di Campobasso e purtroppo nelle scorse ore è venuto a mancare il papà Pasquale Cutrone, 58 anni, che era da sempre legato alla sua città, tornava spessissimo a Campobasso, era tornato anche con Patrick in occasione di una giornata dello sport organizzata negli anni scorsi e con la maglia del Milan Patrick gli ha dedicato anche diversi gol perché Pasquale Cutrone seguiva continuamente eh suo figlio quindi tanti messaggi di cordoglio di queste ore da parte dell'Empoli, del Milan ma anche dell'ex presidente del Campobasso Giulio Perrucci, messaggi eh che ricordano la figura di Pasquale Cutrone eh gentile e innamorato della sua terra, della sua città, Campobasso appunto. Parliamo di Lega Pro, il Campobasso è atteso dalla trasferta di Andrea, l'ultimo acquisto, Mercai, suona la carica, in Puglia per vincere. Subito a suo agio nei meccanismi di squadra e subito pronto davanti al microfono. No è stato l'approccio secondo me è stato fatto molto bene, i compagni sono tutti bravissimi, mi sono inserito subito bene, secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, gli ultimi 15-20 minuti potevamo pure portarla a casa, abbiamo avuto un po' di sfortuna, però prendiamoci questo punto e andiamo avanti che è molto importante anche perché abbiamo giocato contro una buonissima squadra, quindi va bene così. Così Orger Mercai si presenta ai tifosi del Campobasso, ha le idee chiare l'attaccante albanese giunto in Molise da Foggia per la salvezza della squadra e per spiccare il volo. Sicuramente l'obiettivo è quello di squadra, centrare la salvezza e poi personalmente fare il meglio possibile per aiutare la squadra. Giocatore duttile Mercai, a Cudini serviva uno con le sue caratteristiche, attaccante esterno ma all'accorrenza, prima o seconda punta? Certo, io davanti diciamo che posso anche giocare a due, da seconda punta, posso pure farla prima, anche da esterno destro, quindi diciamo che davanti riesco un po' a ricoprire tutti i ruoli, poi sta sempre al mister e decide dove mettermi, io sono sempre a disposizione. Il Campobasso lo ha impressionato quando l'ha affrontato con il Foggia, oggi che è un attore protagonista dell'undici rosso-blu e fiducioso perché la squadra ha un gioco ben definito. Da avversario me lo ricordo quando siamo venuti qua all'andata che abbiamo pareggiato 1-1 ed era una squadra tosta da affrontare, infatti sapevo che aveva un buonissimo gioco e così è stato, mi sono trovato veramente bene anche oggi in campo. Gioco che permetterà a bontà ai soci di affrontare la prossima trasferta con ambizione, l'ambizione di sbancare Andrea. La prossima, se non sbaglio, giochiamo contro l'Andrea fuori casa, quindi secondo me dobbiamo preparare la settimana per cercare di arrivare lì e fare i tre punti perché sono importantissimi per noi, se riusciamo a fare una vittoria per una settimana diciamo che riusciamo a metterci abbastanza bene. D'ora il calcio di serie D, il presidente del vasto girardi Andrea Di Lucente promuove squadra e mister Ruggeri e soci domenica saranno di scena a Castelfilardo. Dio un voto alla squadra per quanto fatto fino ad ora ed anche all'allenatore, avete scommesso sui giovani e questa scommessa per il momento sta ripagando anche piuttosto bene direi? La squadra sicuramente un otto perché è una squadra giovane dove tanti non credevano che potesse fare un buon campionato. Fermo restando che il campionato ancora non è finito, è un campionato ancora lungo, stiamo quasi vicino al giro di Boa dove giustamente abbiamo raggiunto un buon bottino di punti, però la strada per la salvezza è ancora lunga. Per quanto riguarda l'allenatore, un buon allenatore, un grande lavoratore che sul campo riesce a far dare ai giocatori sempre il massimo. Per il basket salta il recupero con l'Empoli per la Molisana Magnoli a Campobasso, quattro casi di positività al Covid all'interno del gruppo squadra della formazione toscana hanno portato a differire la partita che era fissata per domani e che inizialmente doveva giocarsi il 6 gennaio, quindi dovrà essere slittato anche il recupero, staremo a vedere quando si giocherà. È tutto per questa edizione del telegiornale che vi ricordo, potete rivedere online sul nostro sito teleregionemolise.it, grazie di essere stati in nostra compagnia, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie a tutti.